Caro Umberto, diciamo che siamo a una tavolata tra amici, che però possono anche pugnalarsi alle spalle per una partita di poker, quindi vorrei sapere che cosa Coach Media, quali carte ha in mano? Allora io cambio tre carte, la prima carta si chiama Dragon Ball Super Broly in uscita il 28 di febbraio è un titolo a cui teniamo moltissimo, l'annuncio in Italia ha scatenato milioni di fan perché abbiamo raggiunto in 24 ore 1.649.000 visualizzazioni su YouTube che non è una cosa scontata c'è una grandissima attesa su questo titolo, finalmente il 28 di febbraio sarà in tantissime sale è un titolo a cui teniamo moltissimo e rientra nel progetto editoriale Anime Factory che è una nostra etichetta di proprietà che in questo momento detiene quasi l'80% di quota di mercato sul mercato delle anime e Dragon Ball è sicuramente il nostro Star Wars, quindi questa è sicuramente la prima carta diciamo la seconda carta è un insieme di animazioni che avremo nel 2019 da Monster School ma soprattutto Shaun the Ship Farmageddon, quindi il nuovo episodio di Shaun the Ship questa volta arriveranno gli alieni in fattoria e quindi sarà veramente molto divertente una grandissima produzione, usciremo in contemporanea con gli altri paesi europei è un titolo di grande attesa. L'ultima carta su cui puntiamo moltissimo sono la nostra etichetta Anime Factory che riguarda gli horror quindi sarà nelle sale da domani La Casa delle Bambole il nuovo film di Pascal Logier, un film molto importante a cui teniamo moltissimo poi nel 2019 avremo una serie di titoli non ancora annunciabili perché rientrano in un piano marketing però diciamo che si tratta del remake, di quello che è il brand, il reboot di quello che è il brand più famoso degli anni 80 fatto da MGM quindi questo è un titolo per noi importantissimo che uscirà a metà anno è un titolo che i fan stanno attendendo avremo altri titoli quali All in the Ground che è un titolo con un'atmosfera pazzesca sullo stile di Babadook quindi insomma diciamo che abbiamo sicuramente titoli molto più forti rispetto agli anni passati quindi attendiamo un 2019 molto forte Insomma sarà una mano interessante da giocare Sì, penso di sì Parlavo con delle persone, degli stranieri che naturalmente sono qui a queste giornate di cinema e quindi chiedevo loro quale fosse diciamo l'impatto che avessero colto con lo spettatore italiano magari hanno qualche elemento in più per capire la nostra cultura che un po' non si capisce insomma però tu da insider forse qualche strumento in più ce l'hai? Io capisco, credo almeno di capire che il consumatore deve essere al centro dobbiamo ascoltare molto di più quello che il consumatore ci chiede noi abbiamo molto a parte del nostro prezioso staff che lavora direttamente con la comunità oggi per andare al cinema serve una ragione in più rispetto al passato che passa dalla sala, dalla qualità della sala ma passa soprattutto, e questa è la nostra responsabilità alla qualità del contenuto diciamo che titoli come Dragon Ball, Il ritorno di Lamu o titoli in passato e anche un evento come Canil Guerrero che abbiamo fatto qualche mese fa ci fanno capire che il consumatore è pronto ad andare in sala sempre e solo sul contenuto importante quindi la nostra missione per il futuro è selezionare ancora più accuratamente i prodotti grazie mille in bocca al lupo grazie, ciao ciao